e allora bentornati su anera amici radioascoltatori io sono alessandro burin e oggi vi porto in veneto dove parleremo di conigli e lo faremo insieme a cinzia sona che è qui con noi salve cinzia grazie per essere qui ciao a tutti cinzia per me è davvero un piacere averla qui con noi oggi amici radioascoltatori con cinzia andremo a fare un viaggio all'interno di un'associazione che si prodiga quotidianamente per salvaguardare la figura del coniglio come animale domestico e allora io lancio un hashtag cinzia ed è hashtag la voce dei conigli che poi è il nome della vostra associazione allora partiamo proprio da qui mi racconta quando nasce questa associazione allora nasce un bel po di anni fa in realtà diventiamo ufficialmente associazione nel 2010 e praticamente nato più come sito informativo io avevo preso il mio primo coniglietto ancora nel 1999 quindi pensate quanti anni è che mi occupo di conigli e da lì ho aperto un sito ho iniziato a mettere quello che mi capitava nella vita giornaliera con il mio coniglio e ho visto che molte persone erano interessate e quindi ho ampliato questo sito e poi mi sono accorta che molte persone hanno il coniglio in casa come animale da compagnia infatti è il terzo animale dopo cane e gatto il problema è che pochi sanno gestirlo correttamente e quindi molti mettono ancora il coniglio in gabbia molti non lo portano dal veterinario e molti lo alimentano con cibi sbagliati che sono quei classici mangimi misti con i semini che purtroppo negli anni fanno dei grossi danni alla salute del coniglio e quindi sopra questo sito ho iniziato a mettere tutte le informazioni sulla corretta gestione diciamo che c'è poi il lato spiacevole quindi se tante persone hanno il coniglio come animale da compagnia si inizia anche poi ad abbandonarlo e quindi ci siamo ritrovati ad essere contattati da persone che non potevano più tenere il coniglio e dovevano trovargli una nuova sistemazione e diciamo che da lì è iniziata anche l'attività di recupero e di trovare poi una nuova casa a questi coniglietti assolutamente no è bellissimo quello che fate davvero poi per questi per questi animali però io cinza vorrei allora proprio partire da uno dei temi che lei ha introdotto ce ne ha lanciato lì qualcuno e secondo me sono tutti importanti da toccare allora partiamo proprio da come gestire un coniglio come animale domestico ad esempio lei ha detto molti lo mettono in gabbia ma il coniglio non va messo in gabbia giusto il coniglio non va messo in gabbia mai è un animale che se lasciato libero interagisce con le persone cerca proprio la compagnia delle persone quindi metterlo in gabbia è una forma di maltrattamento certo il coniglio non ha baia non miagola non ha voce e quindi le persone pensano che questo silenzio sia indicativo di un animale che sta bene anche in gabbia in realtà non è così molte persone dicono sì ma non posso lasciarlo libero perché mi rosicchia i fili oppure sporca per casa beh è questa è la nostra parte in cui spieghiamo che il coniglio prima di tutto va sterilizzato perché una volta sterilizzato perde questa abitudine di marcare il territorio quindi di sporcarci tutta casa e questo sarebbe già un passo molto importante e poi basta mettere tutto in protezione se noi abbiamo dei fili elettrici li copriamo li spostiamo li alziamo e quindi dobbiamo noi adeguare un po la casa al coniglio fate queste cose il coniglio è come un gatto può girare libero in casa e come il gatto usa la lettiera quindi è un animale che si gestisce benissimo in casa ovviamente con tutta una serie di accorgimenti assolutamente amici radioascoltatore avete capito che quindi non solo chi ha un giardino può avere un coniglio se ce l'ha tanto meglio il coniglio si trova ancora meglio ma se anche volete averlo in casa avete un appartamento non avete giardino potete benissimo farlo ovviamente ci sono alcuni accorgimenti da rispettare come per tutti gli animali però a questo punto cinza io le lancio un altro hashtag ed è hashtag alimentazione perché il coniglio è un animale delicatissimo bisogna dargli la giusta alimentazione per non compromettere quello che è il suo benessere e allora ci racconti un po quali sono gli alimenti giusti da dare al nostro amico a quattro zampe che non devono mai mancare nella sua alimentazione e cosa non dargli allora dobbiamo partire da questo concetto molto semplice il coniglio in natura è un erbivoro quindi si nutre di erba foglie fiori tutto ciò che troverebbe nel territorio non certo di mangime con granaglie con quei semini che vendono purtroppo nei supermercati e che fanno malissimo ai denti del coniglio perché il coniglio ha questi denti a crescita continua che deve tenere limati mangiando appunto degli alimenti adatti che sono l'erba e il fieno se noi diamo questi mangimi nel corso degli anni andremo a causare un problema ai denti ma non solo un problema di fegato un problema renale e quindi è importantissimo che al nostro coniglio venga data un'alimentazione a base vegetale in casa quello che possiamo dare è fieno verdure miste e possiamo dare eventualmente come premito del pellet di buona qualità questa è l'alimentazione che deve avere il nostro coniglio fieno 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 poi se si ha la possibilità di raccogliere l'erba o di avere un giardino dove potergli far brucare l'erbetta va benissimo anche perché comunque cinzia mi permette al fieno a livello anche economico costa meno dei mangimi che vendono e quindi non vedo il motivo per cui non gli si debba dare questo al coniglietto senza cinzia lei prima ci ha parlato dell'attività dell'associazione recupero appunto di questi conigli che spesso vengono abbandonati tra l'altro abbandonare un coniglio non è poi neanche proprio come un cane anche perché il coniglio come lei diceva non potendo neanche parlare viene proprio abbandonato a se stesso si ritrova in un habitat totalmente diverso dal suo e quindi davvero ci sono tanti problemi ma che per chi invece vuole adottare un coniglio vuole riferirsi alla vostra associazione anche per fare questo lo può fare gli date un sostegno certamente allora noi operiamo principalmente in veneto tra verona vicenza padova per questioni logistiche però comunque possiamo passare dei contatti delle varie associazioni che operano in tutta italia quindi se qualcuno vuole adottare un coniglio ci può scrivere tramite il sito trova il nostro contatto email e noi da lì poi procederemo con tutto l'iter dell'adozione che prevede appunto una spiegazione su come deve essere gestito il coniglio noi li diamo già sterilizzati e vaccinati quindi sani controllati sì 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 ci teniamo tantissimo quindi arriviamo a dare un animale su cui già conosciamo sia il carattere che cosa mangia il suo vissuto insomma cerchiamo di dare un animale sano o se ha dei problemi di salute cerchiamo di spiegarlo prima ovviamente e quindi poi da lì seguiamo tutto il percorso dell'adozione ma ovviamente non abbandoniamo i nostri adottanti in qualsiasi caso avessero delle domande dei dubbi delle richieste noi siamo sempre presenti quindi insomma possono contare sempre su di noi sul nostro appoggio e allora amici radioascoltatori avete sentito bellissima realtà quella dell'associazione la voce dei conigli dove cinzia presidente se volete fare del vostro animale domestico proprio un coniglietto volete trattarlo al meglio però perché va trattato bene è un argomento che non abbiamo toccato ma è un dovere di chi adotta qualsiasi animale in questo caso il coniglio è quello di curarlo e quindi i conigli anche vanno portati dal veterinario devono seguire vaccinazioni devono essere appunto seguiti in tutto e per tutto in quelli che sono i loro bisogni cinzia io la ringrazio perché ci ha fatto fare un bellissimo viaggio nella vostra associazione in quello che è il mondo dei conigli e allora io le ricordo che poi magari per lei potrà essere bello ricondividere anche la nostra puntata sui vostri canali comunicativi per far conoscere a tante più persone e le indicazioni importantissime che ci ha dato ma soprattutto ciò che la vostra associazione può fornire voi amici radio ascoltatori se volete un coniglio come animale da compagnia fatelo rivolgendovi all'associazione la voce dei conigli allora partite dai loro contatti andate su facebook all'account adozioni la voce dei conigli oppure su instagram all'account chiocciola la voce dei conigli trovate tutte le indicazioni di cui avete bisogno in più allo stesso nome trovate anche il sito internet e allora cinzia grazie mille per essere stata con noi grazie a voi di tutto grazie mentre voi amici radio ascoltatori non andate via perché le storie suoner non finiscono mai